Buonasera a tutti, oggi andiamo a vedere come va questo alimentatore da 1000 watt 80 plus gold che mi ha mandato una azienda emergente, Endorfi, proprio per testarlo e vedere un po' come si comporta sotto il mio banco di prova visto che stiamo in ballo a fare alimentatori grossi, vediamo un po' come va anche questo un minuto per il nostro sponsor e andiamo il nostro sponsor di oggi come sempre è CDK Deals nel sito VIP dove possiamo trovare key di ogni genere, sia di giochi che di Windows 10, Windows 11, Office eccetera eccetera e con il mio codice sconto FC20 potrete avere uno sconto del 30% sul prezzo finale aggiungiamolo al carrello andiamo al carrello e quando si fa procedere all'acquisto inserete il mio codice sconto FC20 e il prezzo verrà ribassato di conseguenza oltretutto il pagamento è possibile farlo anche direttamente tramite Paypal quindi non avete il problema di stare con pensieri che vi abbiano scammato o cose del genere anche perché le key arrivano, sono legittime e comunque avete tutte le protezioni a cui renti del caso il tutto senza dimenticarsi ragazzi che la procedura è andare dentro impostazioni, attivazione, cambia codice product key copiate il codice che vi mandano, incollate e via andare che Windows è attivato allora fatte le sedute premesse andiamo a vedere che c'ha 7 anni di garanzia che ha la Fluctus Fan che non so cosa voglia dire ma va bene 100% condensatori giapponesi andiamo a vedere tra poco diciamo a fine video ma mi fido abbastanza che è molto silenzioso un piccolo unboxing direi che è d'obbligo allora a parte la scatola di cartone non è diciamo proprio la migliore del mondo ma ok vediamo cosa c'è nel bundle allora qui c'è l'alimentatore in sé, il ciccione mi sembra bello pesante, andiamo a vederlo finalmente beh, la ventola con queste le palette così segretate ricorda tanto le produzioni di vari Be Quiet Noctua del caso sto sbirciando un po' dentro per vedere se trovo qualcosa che non mi sembra di vedere niente che abbia in memoria allora, beh, l'etichetta è abbastanza normale allora, a parte il fatto che è sotto l'alimentatore quindi è una scelta un po' insolita ma comunque ok vediamo che comunque ci sono 996 watt su 12 watt che è normale 100 watt solo sulle rail minori il che è ai limiti minimi di quello che vediamo di solito ma ok tanto ormai non si usano praticamente più c'è ancora la meno 12 e 5 USB 3A che è un classico per un totale di 1000 watt questo non è un alimentatore come il Corsair che abbiamo visto l'olta scorsa quindi è ancora, diciamo, normale un alimentatore di quelli normali che sono il 99% di quelli che sono in commercio ecco, la scatola contiene anche questo che è il mega matassone dei cavi insolitamente con terminali che vanno all'alimentatore di colore grigio il che non mi dà affatto fastidio perché per una volta un produttore si preoccupa di differenziare i colori dei due capi del cavo cazzo, una volta tanto un lato è grigio e un lato è nero il lato grigio va all'alimentatore il lato nero va alle periferiche non mi sembrava così difficile da inventarselo in tutti questi anni accidenti, qualcuno ci ha già pensato qualche volta mi fa piacere che anche loro ci abbiano pensato perché ci voleva proprio non è che è una cosa che, voglio dire, a un neofita dia fastidio perché ti aiuta e comunque la quantità di cavi direi è notevole qui abbiamo P6 Express, un connettore per cavo che mi piace mi piacciono i P6 Express che non si sdoppiano sullo stesso firmware, un altro P6 Express uguale questi sono dei SATA, bene cavo CPU, quindi EPS classico questo è P6 Express, ancora sono 4 altri SATA questo è l'ATX, è appeso, gli va insieme un altro CPU e qui altri SATA, MOLEX non ne ho visti ma forse con EQA1 per esempio qualcuno che dovesse avere la necessità qualcosa c'è, quindi diciamo che la dotazione di cavi è del tutto consono e mi piace non vedere P6 Express che si sdoppiano perché non è un alimentatore per fare mining ma è un alimentatore da gamer, quindi ci sta, è giusto a questo punto direi di vedere come va vediamo un po', ho le scale un po' sballate no, non c'è ripora a bassa frequenza no, tutto bene queste 12 volti ripone bassissime, intorno a 10 millivolt vabbè ma adesso siamo a zero carico quindi direi di, da di un goccio di, eh, di brio mmm, non nulla di olio sopra voilà c'è un piccolo ripple ad alta frequenza e un piccolo ripple anche bassa comunque siamo intorno ai 15 millivolt sul 12 volt sul 3,3 direi che la componente ripple è quasi inesistente cioè io adesso 5 millivolt è realistico 5 usb e 5 volt, una decina scarsa direi, abbondantemente scarsa direi su 7,8 millivolt molto molto soppresso molto preciso direi di fare prima un piccolo test dei miei con 300 watt di carico come vedete la tensione su 12 volt è molto precisa 12,00 addirittura e 292 watt di carico assorbito per 319,7 assorbiti alla presa il che ci dà un'efficienza intorno al 92% che è più o meno quello che otteniamo con tutti gli alimentatori gold di ottima qualità quindi direi tutto bene anche da quel punto di vista a questo punto direi di andare con una piccola prova delle rail minori mettendole tutte al massimo tanto che fa qualcosa di diverso oddio vediamo il 3,3 il 5 volt e il 5 usb che non hanno fatto una piega ritornerei quindi su 12 volt faccio notare che le rail minori da sole hanno portato il consumo complessivo a 402 watt rispetto ai 317 di prima quindi c'è una bella 85 watt in più che è quello che assorbono tutti i miei carichi minori tanto è un alimentatore sicuramente di sito di sì quindi non dobbiamo preoccuparci di dargli un carico improprio con le rail minori perché tanto viene tutto creato dalle componenti di potenza del 12 volt che poi vengono ritrasformati dai piccoli VRM di sito di sì che creano le rail minori ok abbiamo portato la potenza a 774 watt di assorbimento e la tensione 12 volt è ancora 12 volt netti come se non fosse successo nulla cioè è tremendo comunque questo ragazzi stabilità stabilità assoluta adesso è diventato 11,99 nel frattempo teniamo d'occhio il ripple le 12 volt che è arrivato ai suoi buoni ho detto una botta no io direi che 25 millivolt li prende accidenti in enormità direi tutto benissimo questo punto visto che siamo già a 921 watt assorbiti alla presa direi di tentare di triggerare la OCP aumentiamo il carico wow qua siamo già eh qua siamo già a 1000 watt sul più 12 è 80C siamo già a 1100 watt vediamo che la 12 volt qua adesso un pochino è scesa ma le altre tensioni restano tutte assolutamente tengono botta 11,85 ma quanto cazzo è salito oh mamma mia siamo a 1300 watt e 1463 alla presa porca bestia vediamo che su 12 volt siamo andati intorno ai 30 millivolt non di più cioè ho ancora un paio di carichi da snocciolare signori ho maxato la scatola e regge ho avuto un piccolo problema qua che poi devo risolvere perché scintillava il mio consumometro ma cioè guardate qua scusate l'arroganza 1330 watt su 12 volt e non gliene frega niente tutti i carichi minori sono attivi quindi siamo più di 1400 watt guardate se non ci credete vi faccio vedere eccoli qua i carichi minori attivi e potete vedere anche il ripple 35 millivolt sì 35 millivolt scala 10 c'è super flower level da paura wow non so come faccia non so perché la ventola non ha ancora accelerato ma notevolissimo notevolissimo beh ha vinto lui contro la scatola nuova ed è il primo 1000 watt che vince assolutamente gliela do vinta cioè non sono riuscito a farlo spegnere ok tensione era 1182 terminale l'abbiamo vista credo e torna 1208 zero load l'escursione delta VE bassissimo tra full load e zero load alimentatore della madonna guardiamoci dentro andiamo quindi ad aprirlo e vediamo un po' che cosa c'è dentro di bello visto anche che la performance la performance è stata eccellente andiamo a vedere un po' allora a parte la ventola che è una strana fluctus con delle palette mai viste che ricordano un po' delle noctow che abbiamo visto ai tempi che sembra di molto alta qualità ecco il ciccio in tutto il suo splendore devo dire che non è niente male visivamente compatissimo per essere un 1000 Watt soprattutto il trafo primario che ha questi ponti che sinceramente io credo di non avere mai visto prima molto particolari comunque efficacissimo devo dire componentistica tutta giapponese per quanto riguarda i condensatori che sono tutti NICHIKON tutti in assoluto design mi hanno detto dalla casa produtrice che è SAMA vediamo che comunque sia la piattaforma che anche il piccolo schedino che fa da filtro sul ricettacolo 220 hanno anche il marchio Endorfi che praticamente ha personalizzato questo alimentatore con il suo logo perché ha lavorato insieme a SAMA a quanto pare nella realizzazione dello stesso vediamo qui un po' di condensatori polimerici a secondario quelli che non sono elettrolitici dovrebbero comunque essere tutti di NICHIKON se non ho capito male qua vediamo la circuiteria di C2DC devo dire un alimentatore veramente molto molto ben fatto abbiamo visto questo alimentatore all'opera devo dire che ha dimostrato di avere una qualità del tutto eccellente nonché una resistenza che fa gara con il super flower dei vecchi tempi che vi ricorderete visto che è arrivato a dei tetti di potenza in overpower molto più alti di quelli che siamo abituati a vedere e comunque ha resistito in specifica non sono riuscito nemmeno a farlo spegnere con la mia scatola nuova il che non è proprio da tutti soprattutto non è molto da 1000 watt diciamo che questo è sicuramente un punto a favore per chi avesse velleità di usarlo allo stremo della potenza per quanto per moltissimi di voi non sia un punto particolarmente importante perché comunque se compri un alimentatore da 1000 watt più di 700 750 non credo che li tirerai addosso in questo momento è in vendita da amazon vi lascerò anche il link in descrizione a 162 euro il che devo dire che è un prezzo davvero niente male per un alimentatore da 1000 watt di questa caratura di questa qualità ripeto l'OM è Sama noi abbiamo già visto un po' di prodotti Sama sui vecchi alimentatori vecchi relativamente perché sono comunque ancora in commercio dell'iTech e abbiamo visto che comunque non ci hanno mai deluso e non so sinceramente se questa piattaforma qui è uguale a quella iTech o no il trafo sono sicuro che è diverso perché non l'avevo mai visto la componentistica è full japan comunque in questo caso quindi sinceramente ragazzi consigliatissimo detto questo ci vediamo alla prossima e ciao a tutti